Ragazzi, allora in questo momento sono l'1.40 del mattino, sto registrando questo video con non zero voglia, in realtà mi sono stancato di parlare di questa situazione ma ogni giorno ne sta succedendo una sempre di più, sempre peggio, si continua sempre peggio. Come sapete tutti da poco ho iniziato a fare delle live sul sito Viola e di recente, qualche giorno fa, mentre ero in live, si presenta una persona sul mio canale che scrive ciao a tutti i volpi di Xiao, sto parlando proprio di lei, tentacroll13, addirittura si è creata un account sul sito Viola e mi ha anche fatto l'abbonamento, la cosa sta sfuggendo di mano. Perché direte voi? Perché un conto era quando sai magari su YouTube veniva, commentava, facevi TikTok, la cosa era gestibile. Adesso vieni live, questo vuol dire ragazzi che lei mi guarda praticamente ogni giorno, ha scoperto il sito Viola, si è abbonata e ogni giorno viene in chat anche a parlare con la gente, con voi che venite sul sito Viola. Questo video è quasi una richiesta d'aiuto, nel senso dobbiamo trovare un modo per far sì che questa situazione finisca, perché se questa inizia ad insultare, a fare cose strane, io poi sono costretto veramente a bannarla e addio video su di lei. Comunque ci sono ovviamente degli aggiornamenti, vi faccio vedere anche per darvi la prova, perché ormai il nostro caro assistente Xxiao79 sta praticamente online più di lei. Ormai la sua ragione di vita è diventata questa storia, quindi ha iniziato ad indagare e in realtà c'è una foto di tentacroll che scrive nella mia chat. Allora, come potete vedere, ha fatto il TikTok con le immagini, io ero in live appunto sul sito Viola, lo vedete qui dalla chat. E poi, qui, il messaggio, il terzo ultimo. Ciao Volpi di Xxiao, va andiamo nella seconda. E qui in realtà si vede malissimo, però è tentacroll13, che si è abbonata addirittura ragazzi appunto al mio canale. E la cosa è veramente grave, perché appunto non è normale che sia addirittura arrivata pure in live. Tra l'altro, mi avete detto in tantissimi, mi sta aggiornando ultimamente, che ha smesso di fare TikTok, ma che allo stesso momento ora è molto, ma molto, ma molto più presente su Roblox. Gente che la sta vedendo su Brookhaven, gente che l'ha vista in server, gente che la vede ogni giorno online. Infatti, rispetto a prima che non si collegava a capo di settimane, adesso gli ultimi online sono sempre un giorno, due giorni, massimo tre. Fatemi sapere nei commenti se voi l'avete beccata in giro, perché voglio capire anche se non sono l'unica che ogni tanto, non l'unico che ogni tanto la becca. Sta di fatto che il nostro carissimo Xxiao79 ha fatto un nuovo video per aggiornarci, per capire se ci sono novità. Andiamola a vedere, ok? Vediamo. Abbiamo delle novità, molto conosciute per il suo outfit. Sì. Ma ragazzi, una delle cose che mi ha sorpreso molto di più è che ho fatto uscire un video nuovo di Tentacrold13. Ma chi? Dove, tra l'altro, c'ero anch'io. Ah, aspetta, intende forse quello in cui abbiamo scoperto che poteva essere Robby, cosa molto improbabile? Nel suo video, e il video in questione è proprio questo qua. Esatto, sì, sì, la mia stalker è Robby, sì, sì, sì. La mia stalker di Roblox è Robby. Esatto. In questo video qua, ragazzi, nei commenti, ho letto un messaggio abbastanza strano. Cioè? Sto parlando proprio di questo messaggio qui. Tentacrold13 lo vedremo, what the fuck? Questo qui, Tentacrold13, tre giorni fa. Sì, ma allora ragazzi, il problema, e a me questa cosa mi manda veramente in bestia, Il problema più grande è che fondamentalmente ormai è diventata una gara a chi ha e a chi vuole ricevere più attenzioni. Questa tizia che commenta, questo tizio, voi non la vedete adesso sì, scusatemi a basso, potrebbe banalmente essere una tipa fake o un tipo fake che vuole semplicemente avere views perché sa che se si mette Tentacrold13 la gente è curiosa e quindi scrive queste cose. Cioè, lei sta facendo leva su questa cosa, questa cosa qui è diventata di suo potere perché lei sa che ci sono tantissime persone che si stanno facendo gli account fake proprio per farsi investigare e tutto il resto. Cioè, non lo so se ci dobbiamo fidare, cioè. Lo vedremo. Ha avuto anche tre risposte che poi uno mi chiede Tentacrold, sei tu? Non so se questo... Secondo me no, non credo proprio. Cioè, secondo me ormai è gente che si finge lei perché sa che tutti ci credono. Allora, ragazzi, è molto semplice. Gli unici profili che io so attualmente che sono quelli ufficiali sono il suo account di TikTok e il suo profilo di Roblox. Per il resto non ha mai creato di... Cioè, non ci sono account che hanno creato dei contenuti ufficiali tipo dei TikTok, tipo dei video in cui vedi che sono comunque montati, che sono fatti bene, che dice ok, è lei. Il 90% sono tutti i video presi, scaricati, tagliati, modificati. Quindi io mi fido solo di un account, pure se è nuovo. Però io mi fido solo se i video sono effettivamente fatti bene. Perché? Perché i video di Tentacrold che sono usciti sul suo vero profilo di TikTok erano comunque un minimo editati. Questo è quello che penso io. Ma lo scoprirò. Infatti, come potete vedere, sono... Setti iscritti. Ho cliccato proprio sul suo canale. Come vedete non c'è nessun video. Eh, appunto. Vedete, ha un occhio rosso nel profilo. Sì, che è come quello di Roblox. Ha fatto proprio lo screen. Come ce l'ha, tra l'altro, su TikTok. Esatto. E anche su Roblox, o no? E ovviamente leggiamo solo una bio, xiao. Con il cuore viola, sì. Il cuoricino è viola. Vabbè, questo non c'entra niente. Sì, vero, però non... Noi vediamo che nella web non pubblica video e nella community non ci sa niente. Quindi niente di proprio strano. Secondo me non è lei. O almeno che magari sti giorni esce un video incredibile di un'ora. Tutti rimaniamo scioccati. Su Roblox, Tentacrold13 ha aggiunto questa nuova emote nel suo account. Cioè? Che cosa bene? 50 Robux. Baby Queen? Ma questa shop ha cose inutili su Roblox che non hanno completamente senso, raga. Questa cosa non la capisco. Cioè, già l'avatar di Robby che si è comprata mi ha mandato completamente in bestia. Ma non ho capito perché compra... Ma chi è che si compra queste robe su Roblox? Ragazzi, ma guardate quanti profili ci sono. Cioè, capito qual è il discorso? Quando su Roblox, Tentacrold13, appaiono un bordello di risultati. Perché ormai le persone lo hanno capito. L'account ufficiale, lo sappiamo qual è. E1. Poi, non lo so se si è fatta 2.000 account, ma la vedo difficile. Ma che ne sta? Uno abbastanza simile. Che è questo qua. Ah, addirittura proprio una tizia l'ha ricopiata. Cioè, si è ricomprata proprio... Sì, è fatto un po'... Un po'... Sì, un po' male in realtà, però vabbè. Un po' male. Eh. Come vedete... Sei follower. Sto tornando. A 25 amici. Non so se è il suo secondo account. Non avrebbe senso farsi un secondo account uguale al primo. Con il rischio di cosa? Di farsi bannare? Dubito, ragazzi. Perché fino a quando non fa cose effettivamente pericolose, non la banneranno mai. Gli youtuber italiani di Roblox, Roblox non se li caga, capito? Cioè, non è che sono Flamingo, non lo so, eh... Creedcraft. Io non posso far bannare una persona. A meno che non fa qualcosa di veramente grave. Oppure, addirittura, un ragazzo o una ragazza che ha ricreato la condita di Tentacroll per... Ma, ma sicuramente è così, cioè, 100%. Ma sì, un po' di followers. Che poi un po'. Un po' proprio un po', sei? Cioè, non è che... Sto tornando con il conto. Vedete, ragazzi, vediamo che la faccia è abbastanza diversa, però ha... Sì, appunto. Con lo stesso outfit e con lo stesso occhio. Ok. Sembra molto un account fasullo di Tentacroll. Ma lo è, sì, anche perché nel gruppo di Robby, c'è... Nel gruppo di... Jenny con sta storia che ci azzecca. Cosa c'entra il suo gruppo? Siamo che segue anche il gruppo di Jenny. Effettivamente, pensandoci, in questa storia si sono infilati in mezzo Robby, mio cugino, qualche mio amico. Ma, effettivamente, Jenny non ha mai fatto nulla, non ha mai avuto interesse nei confronti di Tentacroll. Ora, non sto dicendo che lei è, attenzione. Però mi sembra molto strano il fatto che non mi abbia mai proposto di fare un video investigativo. O magari, semplicemente, non lo so, darmi un consiglio. Da quando è iniziata questa situazione, Jenny non si è mai interessata a questa roba di Tentacroll. Devo richiederglielo un video, ragazzi, non lo so, è un po' strana questa cosa. Beh, anche Tentacroll, tecnicamente, dovrebbe esserlo, eh. Sì, molto probabile. Ricreare l'account, sì, sì. Fortunatamente è bannato. Sì, che tanto fa schifo, non ha senso, è fatto malissimo col mondo, ma vabbè. Come andremo a giocare? Ancora? Non ho capito, cosa vuole vedere? 70 dislike, cioè, incredibile. Incredibile questa roba. Ebbè, sì, questo è poco, ma sicuro. La gente che gli ha messo like, sicuramente non mi vuole bene a me. Non puoi, devi giocare prima. Non ci hai mai giocato, zi. Com'è possibile? Bello. Sembra tipo Lorenzist strano. Ma molti riferimenti sono quelli a Doors, ma un sacco di... Quanto gli lagga, aiuto. Ragazzini e ragazze, l'avevano già detto nel loro TikTok, dove... Sì, 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 sì. È molto simile a Doors, il gioco, cioè... Ma non c'è niente di che, eh. Sì, è un po' principale, basic, quindi Roblox. Esatto, sì, sì, ha piazzato un mondo lì, ma perché, ragazzi, poi, ripeto, a meno che non ci sarà qualche scoop incredibile, io credo che Tentacroll al massimo c'ha 12 anni. Ora, non per insultare quelli che hanno 12 anni, ma di certo una ragazzina di 12 anni non è che si mette a programmare su Roblox, tantomeno lo sa fare. Ha piazzato lì un mondo e... Cioè... Sì, appunto, però non si può uscire da lì, ho sbaglio. Vabbè, d'altronde sequestra le persone, dico le minacce, almeno su quello, l'ha fatto. Però, diciamolo, ragazzi, quel mondo che è stato bannato, in cui io ci ho fatto un video, quello era veramente fatto bene. E infatti lì, in quel mondo, ragazzi, ho avuto paura e ho pensato che forse dietro Tentacroll effettivamente ci fosse qualcuno di più grande, perché quel mondo non era il mondo incredibilmente programmato da Gesù. Però rispetto a questa cagata, passatemi il termine, cioè, sembrava un mondo mirato contro di me. C'era pure il mio avatar. Era strano, era strano. Però è stato stranamente bannato, quello lì. Infatti, perché questo, fondamentalmente, raga, cioè, è rimasto, perché effettivamente cosa c'è? Niente dentro. Invece quell'altro è durato pochissimo. E questa è una cosa un po' strana. La mia teoria è che Tentacroll ci vuole fare prigionieri. Beh, ti basta non entrare, comunque. Cioè, sicuramente nessuno ti punta una pistola alla testa e ti dice se non entri nel mondo di Tentacroll. Cioè, anzi, dico l'uovo di Pasqua ti arriva comunque. Spero. Sì, vuole fare prigionieri Xiao per dire che... Sì, due volte. Due volte. Quello che deve fregare a me ancora deve nascere. Penso se mi frega Tentacroll. Perché si possiede a sposare con lui e lui non può fuggire a questa cosa. Sì che posso. Basta che non entro nel mondo. Questo, ragazzi, secondo me, potrebbe essere il significato del mondo di Tentacroll. Ah, ok, ok. Sì, ragazzi. Fate caso che è una teoria. Comunque... Caro. Oddio. Chi è entrato? Paura nera aiuto. Chi è? Ma perché... Raga, ma succedono tutti a lui comunque. È incredibile questa cosa qua. Succedono tutti a lui. Ma... Comunque Paura nera che scrive aiuto in chat. Non so che... Non so di cosa... Paura... Perché... È una mappa fatta con una ragazzina. Sì, vabbè. Sempre lui due secondi fa per intrappolarci e sequestrarci tutti. Comunque, ragazzi. Come vedete, è tutta... Cioè, ma quindi nel mondo di Tentacroll c'è ancora gente che ci... Invece il mio appunto di YouTube si chiama Xapopo e la seconda mappa, ragazzi, il significato è solo uno. Che è sempre una mia teoria, ovviamente, ragazzi. Non è che tutto quello che dico è vero. Vabbè, certo, certo, assolutamente. Però apprezziamo il lavoro che fa, eh. Finalmente è chiuso. Sì, è un regno dove regnano Xau e Tentacroll. Non proprio. Io in realtà l'ho interpretato in modo diverso. Lei si crede la regina di tutto e vuole calpestare tutti. Secondo me. Comunque. Comunque. Xau79 non è l'unico ad avere teorie. Perché? Perché? È tornato anche FBI Brookhaven. Che tuttora, ancora non abbiamo capito se è effettivamente il vero account. Io, raga, quel tizio che hanno bannato, ancora sono scioccato. Ma questa ragazza, praticamente, ha fatto una pagina insieme ad un'altra ragazza che mi aiuta anche nei video, soprattutto. Che si chiama Axiaos Heart. Che, PS, novità su Tentacroll, ha la sua pagina. Che hanno fatto uscire un po' di video. Andiamoli a vedere. Bentornati, ragazzi. Mm. Oggi sono qui per comunicarvi una notizia. Ok. Sono un'altra ragazza. Novità su Tentacroll l'abbiamo fatto. Ah, ok, aspetta. È tipo uno spam, non ho capito. Fammi capire bene. Ho fatto una nuova teoria. Ok. Ah, ok. È se il Tentacroll è veramente una bambina. Ma... Secondo me sì, sì. Cioè... Cosa ci faceva in mezzo alla scuola del caso? Vabbè. Il modo in cui lo dice alla scuola del... Cosa, alla scuola di cosa? Ci faceva in mezzo alla scuola del caso. Era la scuola del caos. Questa effettivamente è una bella domanda. Che io non mi sono mai posto. Effettivamente, se Tentacroll fosse stata una bambina, fosse una bambina, com'è possibile che era all'interno della scuola del caos, che si presuppone all'interno c'erano solamente ragazzi, comunque di una certa età? Questo effettivamente non me l'aspettavo. Cioè, è se tutti nella scuola del caos erano youtuber famosi, ma... Non proprio, eh. Per esempio Zero, così. Non è che sono tutti youtuber. Però... Soprattutto adulti. Cosa ci faceva lei l'equilibrio? L'unica cosa che a me verrebbe in mente è che lei e il preside X erano amici. Sì, ma scusami, il preside X allora cos'è? Un bambino di cinque anni? Mi sembra veramente difficile. Per non parlare del fatto che comunque quando lei è stata eliminata, il preside X non ha battuto ciglio. Cioè, non gliel'è fregato niente. Quindi... Non si conosceva con Roxanne che conoscere il preside. Madonna, sì, che bordello. Non lo so in realtà. Questo è interessante, raga. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Comunque ragazzi, attualmente non so darvi nessuna risposta. Se avete altri news, se l'avete beccata da qualche parte, se vi ha detto qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. Noi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video. Vi prometto che cercherò di fare più video al riguardo, perché so che è un argomento che vi piace tantissimo. A me un po' meno, perché in realtà dare visibilità a una ragazzina, che tra l'altro si sta comportando un po' male, non è che mi faccia proprio andare bene. Però, a tutti piace il drama, quindi... Ci vediamo alla prossima.